Prevenire gli infortuni nel padel Ciao a tutti ragazzi, io sono Federico, preparatore atletico di padel e personal trainer Nel video di oggi io vi mostrerò alcuni esercizi da effettuare come routine settimanale quindi due o tre volte a settimana alcuni anche da fare prima dell'allenamento o della partita a modi di riscaldamento Come si possono prevenire gli infortuni? Sicuramente dedicando molta attenzione alla tecnica quindi facendoci seguire da un istruttore qualificato di padel che può aiutarci sicuramente a migliorare la nostra tecnica di gioco con una corretta preparazione atletica quindi con esercizi mirati per il nostro fisico e il nostro livello di gioco e di allenamento stretching, esercizi di stretching alla fine di ogni partita, alla fine di ogni allenamento e soprattutto, dimenticato da tantissimi, soprattutto gli amatori ovviamente, non i professionisti quello che colpisce più di tutti è il riscaldamento riscaldamento che manca il più delle volte perché arriviamo sempre di corsa alle partite quindi facciamo qualche scambio per riscaldarci non eseguiamo un corretto riscaldamento che ci aiuterà ad affrontare un'ora e mezzo di partita quindi nessuno scatto, nessun esercizio di stretching pre-partita nessun esercizio di mobilità articolare, eccetera niente di tutto ciò questi piccoli accorgimenti possono aiutarci quindi a prevenire gli infortuni più comuni nel padel questo po' è il rischio per il ripienzo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti